Musica Musica Lo scavolini stormasto si estende sono superficie di circa 200 metri quadri All'interno trovate ben otto modelli unitamente alla zona living selezionati per voi dall'ampia gamma scavolini Dopo la nostra esperienza cinquantennale nel campo dell'arredamento inauguriamo il primo scavolini stormasto All'interno del nostro punto vendita mettiamo a vostra disposizione la nostra competenza la nostra professionalità per redigere al meglio un progetto di cucina scavolina Vi aspettiamo numerosi Grazie a tutti! Chiamurini stormasto!